Ueeh, non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, disponibile anche la stella segreta della settimana numero 2. Siamo esattamente tra il coltello e la forchetta qui vicino a Lande Letali. Quindi ragazzi, molto semplicemente ci avviciniamo proprio qua in mezzo, la recuperiamo. Stella segreta della settimana 2, presa! Io vi ringrazio per aver guardato anche questo video, c'è anche quello della stella della settimana 1. Noi siamo in live, iscrivetevi al channel! Ciao! Ciao!